Sradicare un concetto di sviluppo inteso come mero progresso tecnologico e crescita economica, favorendo piuttosto la coscienza di una sfida che riguarda l'uomo e la sua dignità. A 50 anni dall'enciclica del Beato Paolo VI, Populorum Progressio, la Chiesa e la società si ritrovano insieme in un convegno dal respiro internazionale a discutere su come sradicare le piaghe di povertà, sfruttamento e discriminazione. La risposta più efficace che il cristiano è chiamato a dare, afferma Papa Francesco intervenuto ai lavori, sta nel verbo integrare. Integrare i diversi popoli della terra perché non vi sia più quella drammatica frattura tra chi ha troppo e chi non ha niente. Integrare i sistemi della finanza, della cultura, della famiglia, della religione perché insieme realizzino uno sviluppo umano senza ingiustizie e via concreta di salvezza. Integrare infine con modelli praticabili ispirati al bene la dimensione individuale e quella comunitaria come antidoto a visioni ideologiche che schiacciano la persona umana fino a massificarla. A tale massificazione sono interessati anche poteri economici che vogliono sfruttare la globalizzazione invece che favorire una maggiore condivisione tra gli uomini semplicemente per imporre un mercato globale di cui sono essi stessi a dettare le regole e a trarre i profitti. L'io e la comunità non sono concorrenti tra loro ma l'io può maturare solo in presenza di rapporti interpersonali autentici e la comunità è generatrice quando lo sono tutti e singolarmente i suoi componenti. Una ricorrenza solenne quella dei 50 anni della Populorum Progressio che dà il via ufficiale anche all'attività del nuovo di Castero per il servizio dello sviluppo umano integrale promotore del convegno. Per il cardinale Peter Tarkson, presidente dell'organismo, compito prioritario della Chiesa non è solo quello di diffondere la cultura della solidarietà e della convivenza pacifica ma anche dare corpo al concetto di famiglia umana. Innanzitutto fraternità, concetto anche sviluppato nel libro di Genesi di fraternità che noi presentiamo come un modello di coesistenza. Questa deve essere la cosa da promuovere. La Chiesa ha un contributo di fare, contributo che parte della nostra fede in Dio che ci ha già fatto sperimentare il suo amore che noi siamo anche invitati a fare questo come missione. Una famiglia deve poter vivere con giustizia ed equità all'interno della stessa casa che però va difesa dai predatori moderni. Responsabilità questa dalla quale nessuno può sottrarsi e che non vuol dire soltanto preoccuparsi di piante e animali come afferma il professor Rodrigo Guerra Lopez ma dell'uomo e dei suoi diritti, del povero a cui è precluso persino l'accesso alle risorse naturali. Essere persone realizzate e responsabili della società del nostro tempo presuppone un nuovo concetto di cittadinanza ovvero la cittadinanza ecologica che a sua volta implica un percorso educativo che dobbiamo tutti abbracciare per poter giungere ad una maggiore sensibilizzazione riguardo alle nostre responsabilità etiche a rispetto della persona e dell'ambiente. Obiettivi possibili ma per lo più lontani se si pensa al fenomeno migratorio che vede oggi 250 milioni di migranti nel mondo oltre 65 milioni di fugiati provenienti da contesti di guerra e di povertà promuovere la multiculturalità e l'integrazione come motore dello sviluppo umano è la sfida della Caritas che però al tempo stesso invoca condivisione e progettualità il vice direttore Paolo Becegato. L'esperienza insegna che i migranti generalmente sono un'opportunità di sviluppo e di ricchezza per tutte le componenti sociali questo ha insegnato la storia e questo anche insegna la nostra esperienza quotidiana.